Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 148esima puntata del podcast di Marcosbox. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source delle ultime settimane. In queste settimane ci sono stati alcuni strasciche della notizia cruda della scorsa puntata del podcast, ovvero quella che vi avevo annunciato, la decisione di reddatti di limitare le fonti rega CentOS Stream. Ci sono state un sacco di polemiche, ci sono stati un sacco di battibecchi all'interno della community, ci sono state le risposte dalle varie distribuzioni che utilizzavano reddatti come base per ricostruire la propria distribuzione. C'è chi si è sclerato da una parte, c'è chi si è sclerato dall'altra. Io personalmente voglio rimanere neutrare adesso, anche perché alcune ragioni, tra virgolette, ce le ha comunque reddatti. Però mi metto anche nei panni di chi aveva fondato anche un business e si è trovata adesso a gamba all'aria. Comunque, iniziamo questa puntata. Come vi avevo annunciato nel cappello di questa puntata, in questo caso cappello non è stato mai un termine più esatto di questo, il reddatto ha risposto alle polemiche che si sono scatenate a seguito della decisione che è stata annunciata di limitare le fonti di reddatto enterprise Linux a CentOS Stream. A rispondere direttamente a queste polemiche è stato Mike McGrath, vicepresidente del Core Platform Engineering di Reddatto, un uomo che di fatto ha annunciato la decisione sul sito della distribuzione e che è stato etichettato in modo dispregiativo con l'appellativo di dirigente IBM. Quindi sapete nel mondo dell'informatica che cosa vuol dire. Bene, Mike McGrath ha deciso di tornare sull'argomento rispondendo alle accuse che gli sono state famose e ha ricordato il suo impegno come volontario nel Fedora Project e del suo amore nei confronti del software open source. Ritiene Mike McGrath che gran parte di questa rabbia deriva da tutta quella community, da tutti quegli utenti che non vogliono pagare per il tempo, l'impegno e le risorse impiegate in reddatto enterprise Linux oppure da coloro che vogliono riconfezionarlo per il proprio profitto. Quindi tira una frecciata, diverse frecciate, anzi, a tutti quanti i vari distribuzioni compatibili con Reddatto. Ovviamente non gli si può criticare, non gli si può dire contro una cosa del genere perché effettivamente è vero, Reddatto impiega risorse economiche vengono impiegati degli sviluppatori che vengono pagati per scrivere codice sviluppatori che contribuiscono al codice sorgente di Linux e quindi contribuiscono anche a far funzionare Linux sui nostri desktop environment sulle nostre distribuzioni casa Ging quindi è un grande valore aggiunto quello di Reddatto Reddatto si fa un business scrivendo codice open source però le ricadute ne beneficiamo tutti quanti quindi dà un valore aggiunto a differenza come ricordato sempre da Reddatto che Reddatto fornisce un valore aggiunto quindi tutti i rebuild di Reddatto Enterprise Linux non danno un valore aggiunto secondo Mike McGrath quindi voi che cosa ne pensate sull'argomento? Siete a favore di Reddatto e della sua difesa? Siete a favore di questa decisione Reddatto? O siete col forcone in mano? Forcone e torce in mano? Anzi perché torce no in questo periodo che fa tanto caldo e state andando metaforicamente contro Reddatto fatemi sapere che cosa ne pensate all'interno dei commenti io sono molto combattuto molto combattuto perché sì riconosco il fatto che i programmatori per poter scrivere in maniera stabile il codice hanno bisogno di essere pagati e per poter pagare i programmatori deve esserci qualcuno alle spalle che gli fornisca il denaro e come può avere denaro se non monetizzando in questo modo visto e considerando che le risorse cioè non c'è un noi come comunità del software libro non è che abbiamo tutto questo questa capacità economica di riuscire a finanziare i progetti sì ci sono alcuni progetti che vengono supportati da patron e quant'altro ma sono mosche bianche e poi soprattutto la maggior parte di questi progetti di questi applicativi open source gran parte del denaro non lo ricevono dalle singole donazioni ma lo ricevono dai big del mondo del settore dell'open source Reddatt Canonical Suze ci sono anche finanziamenti che arrivano da Amazon tramite AWS quindi alla fine i soldi servono servono per pagare gli stipendi servono per poter pagare gli stipendi per persone che scrivono codici quindi se l'ha fatto per monetizzare per cercare di monetizzare il più possibile noi si può dare tutti i torti di questo mondo ripeto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e restiamo in famiglia per così dire con un articolo a fiuma di Luca nel quale ci spiega come risolvere un problema che recentemente gli è capitato su CentOS 7 che causava il mancato aggiornamento di Google Chrome e quindi bloccava anche gli aggiornamenti di sistema all'interno del suo articolo viene spiegato come è possibile fare come è possibile risolvere questo problema schippando la verifica GPC con un comando da dare da terminale fatemi sapere se anche voi siete incappati in questo problema se avete utilizzato la stessa soluzione oppure no gli snap amore e odio della comunità del mondo del software di open source amore e amore perché c'è chi ritiene che siano il sistema del futuro e c'è chi critica apertamente perché hanno una serie di problematiche che effettivamente ancora non vengono risolte e che sono particolarmente antipatiche basti pensare al tempo di avvio dell'applicazione in formato snap quindi l'impiego di risorse la presentenza e quant'altro è una cosa, un problema che è noto canonico ogni tanto ci mette una pezza risolvendolo per alcuni pacchetti ma poi la maggior parte dei pacchetti sono affritti sempre da questo bug della lentezza soprattutto al primo avvio che rendono l'utilizzo di applicazioni in formato snap particolarmente frustrante magari uno si ritrova con un SSD SATA M2 velocissimo si ritrova con un computer dalle caratteristiche elevate da gaming e quant'altro poi vai a avviare che ne so Firefox in formato poi l'altro pacchetti aspetta che si carichi il programma a guardare e dice ma questo parte o non parte ed è un problema noto è un problema risaputo tanto è vero che molte persone continuano giustamente a preferire le applicazioni nel formato nativo ma soprattutto continuano a preferire il formato diciamo tra virgolette concorrente ovvero il formato flat pack il formato snap è odiato mi dicevo da molti ma è odiato anche da alcuni ex alcuni ex di Canonical e questa c'è una notizia riguardante proprio un un ex sviluppatore di Canonical ah è un po' perché di sicuro lo conoscete se bazzicate l'ambiente del software libero penso lo conoscete di nome è stato un programmatore di lungo corso che ha lavorato per ben nove anni in Canonical prima di lasciare la società nel 2021 e successivamente poi ha dichiarato anche di essere andato via perché il progetto snap non è stato mai opportunatamente supportato diciamo così ma che cosa ha fatto recentemente all'unpup ebbene ha lanciato uno script un tool come lo volete chiamare anzi più che altro è uno script chiamato un snap e che cosa va a fare un snap genera degli script che consentono di eseguire una migrazione dagli applicativi in formato snap agli applicativi in formato flatpak lanciando un snap su ubuntu e su uno dei framework ufficiali di ubuntu che hanno snap lui che cosa va a fare di fatto vai a cercare ne so vede che firefox è installato in formato snap che coups è in formato in snap quel lato perché è in formato in snap allora lo va a rimuovere e va a installare il corrispettivo in formato flatpak quindi fa una cosa automatica che è comoda per rendere la vostra versione di ubuntu priva da pacchetti in formato snap che poi mi viene da di a sto punto che utilizzate a fare ubuntu se odiate a tal punto di pacchetti in formato snap questa è anche una cosa che vira un'obiezione che è stata sfoderata da diversi utenti quando ho pubblicato la notizia e avete ragione avete ragione sotto sto punto di vista però magari uno gli piace ubuntu non lo so gli piace ubuntu per gli piace ubuntu e vuole utilizzare ubuntu però dai pacchetti in formato snap e vuole purificare la propria distribuzione da tutti i pacchetti in formato snap e con questo con questo script potete farlo lo sviluppo di un snap è comunque ancora nella fase alpha quindi potrebbero esserci problemi come la mancata la mancata migrazione di alcuni pacchetti snap quindi testatelo fate fate sapere sulla pagina github lasciando un report se incontrate dei problemi e contribuite a migliorare questo tool questo script e a proposito di cose da testare se siete amanti di KDE e volete testare KDE plasma bene correte a farlo correte a testarlo grazie a KDE Neon il team che sviluppa la non distro perché di fatto non è una distro ha annunciato la disponibilità di KDE plasma 6 su KDE Neon unstable edition ovvero il ramo di sviluppo di KDE Neon quello pensato per chi desidera testare per primo le novità attualmente KDE plasma 6 sembra quasi identico al build con KDE plasma 5 c'è qualche bug un bug evidente visibile quello per esempio nel pannello in alto dove gli elementi che dovrebbero essere rinarrati a destra non lo sono però si tratta di una cosa facilmente risolvibile manualmente prima che venga risolta direttamente al mondo ci sono poi anche altri bug però considerando che si tratta di un porting iniziale che utilizza un framework ancora non rilasciato in forma stabile è però più utilizzabile dai diciamo specialmente adesso che i pacchetti che di framework 5 e framework 6 che si sovrappongono sono stati sistemati quindi dovrebbe essere tutto fatto bene fatemi sapere se l'avete testata se vi piace se siete anche voi con la scimmia ansiosi di provare KDE Plasma se io mi sono oramai accasato su su altri su PopOS quindi per adesso mi tengo alla lontana da KDE Neon voglio voglio vivere un po' più tranquillo voglio vivere come gli utenti quelli vecchietti sono diventato un vecchietto informatico e concludiamo questo spazio dedicato alle distribuzioni Linux con una notizia che arriva dalla Cina grazie all'arrivo di una nuova distribuzione chiamata OpenKeylin che è una nuova distribuzione Linux presentata alla stampa come il primo sistema operativo desktop indipendente d'open source cinesia qual è la grande la grande cosa di questa di questa nuova distribuzione beh OpenKeylin è costruita interamente da zero non si basa su nessuna altra distribuzione Linux esistente lo sviluppo della distribuzione di OpenKeylin è portato avanti da oltre 4.000 sviluppatori 74 gruppi di interessi speciali e oltre 200 aziende cinesi che collabono appunto alla sua realizzazione sembrerà davvero interessante come progetto vabbè lo so che molti di voi hanno iniziato già a alzare le orecchie di dire ah c'è una distribuzione cinese ci sono spyware e quant'altro il codice della distribuzione è disponibile pubblicamente su gite.com quindi potete vedere quello che fa poi nel caso di qualche scivolone diciamo così non non segnalato come quello che è caduto con D-PIN gli occhi degli sviluppatori sono sono lì per controllare quindi fidatevi della comunità fidatevi del fatto che il codice è disponibile pubblicamente OpenKin 1.0 attualmente supporta le architetture x86 ARM e RISCV per pc tablet schede di sviluppo didattiche l'architettura ARM è stata adattata adattata per funzionare su Raspberry Pi QP Chili Pi e altre schede di sviluppo mentre l'architettura RISCV è stata adattata per le schede di sviluppo Vision 5.2 Hi5 SG 2042 e WB Rikipi 4A e Lotus 2 cosa carina della distribuzione che come desktop environment hanno scelto Ukui desktop environment che l'avete già visto su altre distribuzioni di origine cinese che dà un diciamo così un look and feel alla Microsoft Windows fra le applicazioni in base preinstallate troviamo poi Firefox Mozilla Firefox come browser web e la suite d'ufficio ovviamente WPS perché tutte le distribuzioni cinesi utilizzano WPS infine troviamo anche i kernel Linux 6.1 ad alimentare tutto ancora non ho avuto modo di metterci mano con una installazione vera e propria semplicemente perché ho visto che c'erano ore e ore per scaricare la ISO e non ho avuto ancora tempo da quando è stato fatto l'annuncio quindi da giorno 6 luglio fino a mo di scaricare di mettermi a scaricare la distro quindi magari prossimamente se riesco a scaricare questo weekend vi faccio vi faccio un handzone vi faccio un piccolo articolo con alcuni screenshot e quant'altro per la gioia dei grandi e piccini c'è stato poi il rilascio di Firefox 115.0 la nuova versione del famoso browser web open source e multiplattaforma unica vera alternativa allo stapotere dei browser basati su Chromium questa nuova versione con il rilascio della nuova versione con supporto esteso quella pensata per ambienti lavorativi aziendali qual è la novità principale di Firefox 115.0 beh riguarda l'aggiunta della decodifica video su GPU Intel su Linux che adesso è attiva per impostazione predefinita quindi hanno dato il via libera gli utenti invece Microsoft che utilizzano Windows 7 e Windows 8 il cui supporto è stato interrotto da Microsoft a gennaio del 2023 verranno automaticamente migrati la versione la versione ESR quindi quella con supporto esteso in modo da poter continuare ad avere aggiornamenti di sicurezza del browser web fino a settembre del 2024 e una cosa simile è stata fatta un aggiornamento forzato alla versione ESR avverrà anche per gli utenti Apple che hanno macOS 10.12 10.13 10.14 maggiori informazioni come sempre le trovate sul link sull'articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox con le note di rilascio e concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox con una nuova puntata scusate il giro di parole della nuova rubrica che ho pubblicato su YouTube chiamata non recensioni questa volta ho recensito la tastiera meccanica MaggiG Star 61 è una tastiera meccanica compatta 60% a 61 tasti con Switch Rossi che ho acquistato qualche settimana fa su Temo al prezzo proprio stratosferico di 3 euro e 0,4 sfruttando la promo per l'apertura dello store in Italia ho visto che praticamente su YouTube dopo che ho pubblicato la non recensione ho visto che è pieno di gente che l'ha acquistata sfruttando quella promo quindi hanno lasciato video recensioni a manetta di questa di questa tastiera tastiera che viene normalmente venduta su Temo adesso al prezzo pieno di 35,48 35,48 ci sono poi anche alcune viene venduta anche su Amazon però in altre colorazioni non quelle che trovate su Temo e addirittura perché diciamo questa è la base da cui ho potuto capire dando un sguardo su Amazon è una base comune poi viene rimarcata dai vari brand quindi la trovate sotto altre spoglie sotto altre marche anche su Amazon se andate a vedere bene comunque nella questa nuova non recensione vi mostro il prodotto e vi do alcune informazioni sulla tastiera quindi sapete che nuove le recensioni che faccio sono quelle che la mia amica Alessandra odia quando dico questa parola alla casalinga di Boghera quindi molto diciamo fatte proprio alla reggiera senza entrare nel tecnico ecco perché se volete recensioni tecniche i web youtube è pieno di recensori tecnici che amano snocciolarvi tutte quante le varie caratteristiche nei minimi in particolare io invece vi faccio capire la ciccia direttamente vado direttamente alla pancia degli utenti comunque mi fa piacere se lasciate un commento mettete un like sul video in modo tale da poter far crescere il canale ho provato anche a contattare MaggiG per chiedere un codice sconto ovviamente mi è stato rifiutato perché non hanno uno store fisico diretto in italiano però mi hanno promesso che se dovessero decidere di vendere in Italia mi avrebbero ricontattato mi ricontatteranno per poter avere uno sconto beh magari se ci scappa qualche cosina per voi io ci provo sempre ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 148esima puntata del podcast di Marcos Box e come sempre vi ricordo che dovete seguire il canale potete seguirmi su tutti quanti i social attualmente disponibili mi trovate su Facebook mi trovate su Twitter mi trovate su YouTube mi trovate su Spotify con i podcast mi trovate su Apple Music Google Music no Google come cacchio si chiama Google qualcosa di podcast di Google mi trovate su Apple Music mi trovate su Amazon Music mi trovate sui principali distributori di feed del podcast mi trovate poi il profilo personale Linkedin se mi volete seguire su Linkedin è così da farmi apparire come una persona che conosce tantissimi professionisti trovate anche la pagina su Mastodon cioè meglio il mio profilo su Mastodon e su Mastodon.1 che molti di voi stanno odiando vabbè magari qualche giorno vi farò vi parlerò un po' magari a voce delle polemiche che ci sono all'interno della community di Mastodon vabbè comunque mi trovate poi soprattutto su Telegram con tre tre pagine tre canali il primo che potete utilizzare a modo di feed reader perché vengono pubblicate tutte quante le notizie trovate poi la community Telegram collegata al canale dalla quale vi invito a iscrivermi numerosi potete parlare di tutto non soltanto di Linux trovate poi infine il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon dove trovate una serie di link affiliazione a prodotti Amazon sapete bene come funziona l'affiliazione di Amazon acquistate un prodotto utilizzando il mio link affiliazione o mettendo il mio referral marcosbox-21 mettendolo a mano sul browser e Amazon mi riconosce una piccola percentuale sui acquisti a voi non vi costa nulla in più e a topo posto vi ricordo che se volete supportare il canale fra qualche giorno il 11 e il 12 di luglio ci sarà il Prime Day e quindi se avete qualche prodotto che volete acquistare e mi seguite su Telegram segnalatemelo vi genero il link affiliazione così acquistate il mio link affiliazione e mi aiuterete a supportare il canale infine vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo anche con una donazione ma anche con un servizio VPN su Marcosbox trovate un bannerino verso destra nella colonna di destra dove vi vi metto tre link affiliazione a tre servizi VPN che fanno parte tutti della stessa famiglia però hanno caratteristiche e costi diversi i tre servizi sono NordVPN Surfshark e Atlas VPN sull'articolo che ho pubblicato sul blog trovate quali sono le principali differenze tra questi servizi e trovate i vari link di affiliazione bene con questo ho concluso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riaggiorniamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao